Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo test con l'applicazione Maven, l'applicazione dedicata ai droni DJI, disponibile solo per i dispositivi iOS che dopo l'arrivo delle SDK 4.16 ci dà adesso la possibilità di utilizzare sia il Mini 1 che Air 2, ma questo già succedeva prima, adesso abbiamo anche la possibilità di utilizzare Mini 2, Mini SE e Air 2S. Quindi dopo aver effettuato qualche video fa la prova con Mini 2, oggi lo proveremo con Air 2S. Ragazzi mi raccomando per utilizzarlo con Air 2S dovete avere installato l'ultimo firmware del drone, altrimenti le SDK non lavorano in maniera corretta, quindi si potrà utilizzare l'applicazione per un volo manuale, ma non potrete utilizzare il copilot, praticamente i voli automatici. Quindi mi raccomando se scaricate l'app aggiornate il firmware del DJI Air 2S. Quindi detto tutto questo, adesso ci richiamo dalla mia solita location e iniziamo il test con l'applicazione Maven e DJI Air 2S. Andiamo! E vedete che l'applicazione ha già cerchiato in verde la casetta che sarebbe appunto il punto di decollo o anche l'RTH, perché comunque in questo momento per lui l'RTH è qui. Vado a cliccare i tre puntini in alto a destra, poi vado a cliccare co-pilot e qua ragazzi abbiamo la parte figa dell'applicazione perché abbiamo, vedete, il simbolo rosso che sarei io, o meglio il controller con lo smartphone, perché comunque sapete che lui comunica attraverso il GPS, o meglio tiene agganciato il GPS del nostro smartphone. Adesso proviamo la funzione, quella in cui lui orbita su di noi mentre ci spostiamo con la bicicletta, o meglio in questo caso con la bicicletta, potremmo essere in auto, potremmo essere con una barca, potremmo essere a piedi. L'importante è andare a selezionare il simbolino con l'omino, perché con questo gli diciamo che siamo in movimento, perché con l'altro simbolo che ci ha attivato di default vorrebbe dire che il punto di interesse sarebbe fisso, quindi un edificio piuttosto che noi, ma se siamo fissi. Mentre selezionando l'omino andremo a dirgli che il punto di interesse è un punto di interesse che si muove. Quindi vado ad attivare la funzione in cui lui orbita intorno a noi. A questo punto vedete che lui ha già creato sulla mappa, adesso ve la faccio vedere, ha creato appunto questo cerchio intorno al punto di interesse che siamo noi, ritorno nella schermata principale. Vado con lo stick di destra a dargli il movimento, quindi a farlo iniziare a girare intorno a noi. Gli dio una velocità di 7,2 km orari, che è la velocità con cui lui continuerà a girare. Poi ovviamente lui girerà a 7,2 km orari a livello di orbita, ma intanto si sposterà tenendoci agganciati, o meglio rimanendo agganciato a quello che è il nostro controller e lo smartphone. Quindi lui sta orbitando, anzi gli diamo ancora un po' più di velocità, così siamo a 9 km orari di velocità di orbita. Perfetto, adesso non mi resta che pedalare. Quindi partiamo. Vediamo se lui continua a seguirci. Vado ad aggiornare il punto dell'RTH, se riesco perché la bicicletta vibra tantissimo. Aspettate che mi fermo. Ok, abbiamo aggiornato il punto di RTH, quindi il punto di RTH adesso si è spostato dove eravamo noi in quel momento. Avete visto, adesso ovviamente è rimasto indietro, però se io vado a riaggiornarlo tornerà dove sono io. Quindi adesso continuo la pedalata, lui dovrebbe continuare a seguirci anche qua sotto alle piante. Vediamolo dov'è, me lo son perso. Comunque siamo ad un'altezza di 30 metri, quindi non dovremmo avere grossi problemi a livello di alberi, perché come sapete gli alberi sono molto pericolosi. Eccolo, guardate come orbita intorno a me. Fantastico, fantastico. Poi Air 2S già è un drone incredibile, figuriamoci in queste situazioni, diventa ancora più affascinante. Ovviamente lui ha l'Active Track, ma qua sono funzioni diverse, perché comunque l'Active Track non potremmo farlo ad altezze molto importanti, perché perderemo il soggetto, se il soggetto è un soggetto piccolo, tipo noi con la bicicletta. E in più l'Active Track Air 2S non lo fa con questa funzione di orbita intorno al soggetto, lo fa seguendo il soggetto da dietro o in parallelo. Quindi continuo a pedalare, guardatelo là, lui mi tiene sempre inquadrato, fantastico. Sta ancora orbitando, lo faccio orbitare un po' più veloce, do un colpo di stick, due colpi di stick, ho aumentato la velocità dell'orbita, perché comunque adesso voglio andare un po' più forte con la bici, sono a 20 km orari con la bicicletta in questo momento, e lui continua, vedete, a orbitare e allo stesso tempo a spostarsi seguendomi, quindi è fantastico. Adesso sono a, vediamo, velocità, 21 km orari con la bici, e lui guardatelo, è fighissimo, fighissima, questa funzione veramente top per quanto riguarda Air 2S, ma anche Mini 2 o Mini SE, o anche Mini prima versione o Air 2, perché comunque Maven adesso è compatibile con qualsiasi drone di questo tipo. Adesso mi giro, eccolo lì, fantastico. Adesso invece direi che possiamo provare un Active Track, quindi vado a disabilitare questa funzione, vado a selezionare l'Active Track, aggiorno il ritorno a casa, vedete che adesso per lui il ritorno a casa è in questa posizione, andandolo ad aggiornare, e ragazzi adesso direi che possiamo iniziare l'Active Track. Qui lui mi seguirà ovviamente tenendomi inquadrato, ma non orbitando più intorno a me, quindi direi che pronti, partenza e via! Eccolo che arriva, perfetto, adesso direi che possiamo anche aumentare un pochino la velocità della bicicletta, vediamo, siamo a 25 km orari della bicicletta, lui mi sta tenendo inquadrato benissimo, oplà, è che è davvero molto sconnesso questo sentiero, però ho tanta tanta roba direi, quindi adesso c'è un cane in mezzo, perfetto, lui mi sta ancora tenendo inquadrato, adesso andiamo nella zona delle piante, quindi passerò sotto alle piante e vediamo come, madonna che buco che c'era lì un momento che vado in terra, allora, adesso 20 km orari, vado qua sotto alle piante, l'Active Track in questa situazione mi avrebbe perso, sicuramente, perché comunque a questa altezza e con tutti questi rami, vedete che sono completamente sotto alle piante, lui invece sta continuando ad arrivare, fantastico, guardatelo lì, adesso passo qua dietro sotto a queste piante ancora, però vedete che lui mi ti è rinquadrato, cioè l'Active Track veramente qua sotto sarebbe stato un delirio, perché mi avrebbe, ho perso, ho schiantato contro le piante, mentre lui guardatelo là, fantastico, adesso sbuccherò fuori dall'altra parte, vediamo se mi riesce a riprendere, perché qua sono dentro un bosco praticamente, adesso esco da questa parte, eccolo là, guardatelo lì, top, davvero top, eccolo lì, davvero, quindi adesso vai, vediamo sta arrivando, quindi riproviamolo a velocità massima della mia bicicletta, quindi cambio rapporto e vai, madonna che buchi, cambio rapporto ancora, 25-26 chilometri orari, sta arrivando, fantastico, 26 chilometri orari, top, vai, 28-30 chilometri orari, guardatelo lì, fantastico, arriva, arriva, adesso mi fermo, eccolo qua, perfetto ragazzi, direi che si è comportato benissimo, adesso lo faccio riatirare, tiriamo le conclusioni insieme perfetto direi, perfetto allora ragazzi avete visto come si è comportato bene Air 2S, ovviamente questa app Maven ci dà molte più possibilità di quelle che vi ho fatto vedere io, queste sono le due funzioni, ci credono delle riprese video fantastiche, soprattutto con la bicicletta o con la macchina o a cavallo o in barca, veramente riprese fantastiche, fatte tutte in autonomia, quindi non dovremmo fare assolutamente niente, poi come sapete comunque l'app Maven che esiste da un sacco di tempo è il suo punto forte, ovviamente sono anche i WePoint, quindi questi voli automatici che possiamo creare con un sacco di regolazioni riguardanti appunto ogni WePoint, quindi veramente l'app Maven è fantastica, però queste funzioni sono incredibili, incredibili su Air 2S, incredibili con Mini SE, incredibili con DJI Mini in prima versione, con Air 2, con Mini SE, cioè veramente con tutti i droni DJI di ultima generazione questa app Maven ci dà queste funzioni incredibili e mi raccomando ragazzi, quello che vi ho detto all'inizio per usare questi droni Air 2S Mini 2 o Mini SE, aggiornateli all'ultima versione del firmware, altrimenti le SDK non lavoreranno bene, quindi potrete usare i droni sì in volo manuale con l'applicazione Maven, ma questi voli copilot non saranno funzionanti, devono essere aggiornati i droni all'ultima versione del firmware. Quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato la prova dell'app Maven con DJI Air 2S, vi è piaciuto, vi è stato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tantissime novità, anteprime, voli in FPV, spoiler di quello che vado a fare, location di dove vado a volare, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove pubblico tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi anche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!